E morragia di volontari al centro migranti di Via Regina. Dopo la decisione, non certo presa a cuor leggero, di lasciare la struttura comunicata da Maria Teresa Carminati, per quattro mesi coordinatrice dei turni per la distribuzione pasti nel campo, altre 80 persone avrebbero manifestato l'intenzione di non continuare il servizio e ulteriori 20 sarebbero al momento in stand-by. 100 dunque, tra i cosiddetti camerieri del sorriso, su un totale che oscilla tra 150 e 160 sarebbero in procinto di interrompere la collaborazione. Il gruppo eterogeneo si era costituito quest'estate a partire dall'esperienza della mensa di Sant'Eusebio ed è poi cresciuto nei mesi successivi. Per me e per chi ha deciso di lasciare è stata una scelta dolorosa, ma a questo punto restare significherebbe contravvenire ai principi del volontariato per come lo intendiamo noi, ha detto oggi Maria Teresa Carminati, la cui decisione finale è maturata dopo l'ennesima frizione con il personale della Croce Rossa in via Regina. Al centro dello scontro ci sarebbe il divieto ribadito ai volontari di dare qualsiasi informazione ai migranti in merito ad attività svolte anche all'esterno. Per noi fare volontariato vuol dire essere a disposizione a tutto tondo e non soltanto in un frangente limitato e sotto regole ferre, ha aggiunto Carminati, cioè non possiamo continuare a preparare vassoie e scodellare riso senza poter interagire con gli ospiti, senza poter dare loro delle risposte se ci fanno delle domande. Quando poi chiediamo spiegazioni, chiarisce ancora, non possono limitarsi a dirci questo è un campo governativo senza fornirci ulteriori motivazioni. In sostanza è la denuncia, chi è stato accreditato per un servizio non può fare altro. Abbiamo iniziato questa esperienza credendoci e avremmo voluto continuare, c'è chi ancora lo farà e il servizio proseguirà, ma ritengo che non possiamo essere meri esecutori, dice infine Carminati, la base della nostra azione è l'accoglienza solidale e a tutto tondo. Probabilmente chi ha deciso di lasciare il campo continuerà a dare una mano portando avanti altri progetti rivolte in particolare a chi sta fuori dalla struttura governativa.